Lei è Erika, lui è Benjamin. Guardando questa foto sembrano una normale coppia come tante altre, due ragazzi felici ed innamorati. Erika ha studiato nei migliori istituti del suo stato e adesso è una promettente giocatrice di basket a livello collegiale. Benjamin invece è il migliore nevisil della sua classe, un ragazzo forte e determinato. C'è però un particolare che questa foto non rivela. Questa coppia sorridente e affiatata nasconde un animo nero che li porterà a diventare l'incubo di una tranquilla località di vacanze. Stai ascoltando educazione criminale e mettiti comodo. Questo è il caso di Erika e Benjamin. Benvenuti in Maryland, è qui che sorge Ocean City, una piccola realtà di 6.000 abitanti affacciata sull'Atlantico, una località dai ritmi tranquilli e rilassati per otto mesi all'anno. Nei mesi estivi invece si popola di migliaia di turisti che accorrono numerosi per godere delle sue lunghe spiagge dorate ed il suo clima piacevole. È il 31 maggio del 2002, sono le 2 di mattina, quando alla centrale di polizia giunge un'allerta dal vicino locale Uthers. I due agenti che arrivano poco dopo sul posto si trovano davanti una coppia visibilmente ubriaca. Si tratta di Benjamin e Erika. Sono trascorsi 4 anni da quella foto. Hanno frantumato con un masso la vetrina del negozio e stanno caricando quanto è più magliette e felpe possibile sulla loro jeep. I due agenti procedono senza difficoltà di mobilizzarli. Stanno per mettere le manette alla ragazza quando lei comincia ad urlare a contorcersi per terra. Urla che sta per avere un attacco di panico, che ha bisogno immediato dello Xanax che ha all'interno della borsa. L'agente Wilson raccoglie la borsa da terra ed inizia a perquisirla. Sta per tirare fuori lo Xanax quando nota altri oggetti che attirano la sua attenzione. Quattro bossoli, un anello incrostato di sangue e due carte d'identità. Erika continua a ripetere che non sa che appartengano quegli oggetti e che non si spiega come possano essere finiti nella sua borsa. L'agente illumina con la torcia le due carte d'identità e controlla meglio le foto. I volti nei documenti li conosce fin troppo bene. Sono affisse all'ingresso dell'ufficio della centrale di polizia e li vede ogni pomeriggio quando prende servizio. Sono ai volti di una coppia di turisti scomparsa cinque giorni prima. L'agente Wilson decide di agire tempestivamente, avvisa la centrale e procede con una perquisizione dell'appartamento dei due ragazzi. Sono le 2.35 quando gli agenti entrano nell'attico. Sperano di trovare qualche indizio che faccia chiarezza sulla scomparsa della coppia. Ed è all'interno dell'appartamento che trovano le prime contraddizioni con quanto affermato da Erika. Lei continua ad insistere di non conoscerli affatto, di non averli mai visti, di non sapere proprio come i loro documenti siano finiti all'interno della sua borsa. In prossimità della vetrata che si affaccia sul grande terrazzo c'è un piccolo tavolino nero. Sopra, oltre ad una lampada, c'è una pila di foto, oltre 50. L'agente Wilson prende tra le mani la foto più in alto. Un primo piano, due volti sorridenti. Sono gli stessi volti, presenti nelle carte d'identità. I volti di Josh e Jenny, la coppia di cui non si hanno più notizie da cinque giorni. Sempre sullo stesso tavolino, di fianco alle fotografie, ci sono tre bossoli. Nel bagliore della lampada da tavolo nota poi una sottile striscia rossa che parte dal pavimento del soggiorno, si interrompe in alcuni tratti, per poi continuare fino al bagno. È appena visibile, sembra essere stata pulita di recente, ma è stata pulita male. La gente apre la porta del bagno. Il rosso cupo di diverse macche di sangue sporca lo smalto bianco della vasca da bagno. Erika e Benjamin vengono condotti in centrale. Sono le 9.20 e dopo quattro ore di interrogatorio, la ragazza inizia lentamente a raccontare la sua verità. Ma chi è Erika? È una ragazza cresciuta in una famiglia benestante. Il padre è a capo di un'importante azienda farmaceutica della zona. È cresciuta studiando nei migliori istituti della Contea. Una ragazza con un temperamento sensibile e introverso soffre di ansia e disturbo ossessivo compulsivo. La pressione dei genitori per i suoi risultati scolastici, la sensazione di dover diventare una donna perfetta, è sempre stato un peso che ha sopportato con fatica. Fa parte della squadra di basket del college. È brava a giocare Erika, tanto che ha partecipato alle selezioni per la squadra nazionale. È al suo primo anno di college, sta parlando tranquillamente con degli amici al bar, quando incontra Benjamin, BJ per gli amici. Lui è un ragazzo con una vita e un passato completamente diversi dal suo. Ha iniziato a lavorare saltuariamente già durante il primo anno di liceo. Benjamin inoltre è un ottimo atleta, ha primeggiato nella maggior parte delle gare di nuoto a cui ha partecipato. Un ragazzo che grazie ai risultati sportivi e ai piccoli lavori part-time è riuscito a permettersi gli studi a completare liceo. Una volta diplomatosi, BJ decide di arrollarsi, vuole diventare un Navy SEAL. Il suo atletismo lo aiuta a superare le difficili selezioni iniziali e una volta ammesso è considerato senza dubbio il migliore della sua classe. Bastano uno sguardo, una stretta di mano e poche parole ad Erika per innamorarsi perdutamente di quel ragazzo. Lui però non è alla ricerca di una relazione seria. Il programma impegnativo e rigoroso dei Navy SEAL non gli lascia tempo ed energie per pensare ad altro. Mette subito in chiaro le cose con Erika, tanto che il loro primo incontro sembra destinato ad essere anche l'ultimo. Trascorre solo un mese però ed Erika partecipa ad una festa per una raccolta fondi organizzata dai Navy SEAL. Sarà questo nuovo incontro a dare inizio alla loro tumultuosa relazione. Erika diventa letteralmente ossessionata da BJ e BJ perde la testa per quella ragazza silenziosa che lo ama incondizionatamente. Da quel momento in poi diventano inseparabili, tanto che trascorrono appena tre settimane quando decidono di fuggire a Las Vegas e di sposarsi. Quattro giorni finalmente da soli in cui si concedono ogni lusso. Al ritorno da quel viaggio tutto sarà diverso, completamente diverso. Come se quei pochi giorni avessero rivoluzionato per sempre le loro vite. Erika decide di non continuare a studiare legge e abbandona anche la squadra di basket. Il solo pensiero di stare lontana da BJ le toglie il buon umore e la fa sentire perduta. Ed anche BJ perde quello zelo e quel rispetto per la disciplina per cui si era fatto apprezzare dei suoi istruttori. Comincia a presentarsi in ritardo alle lezioni, è svogliato e non obbedisce più alle regole. Trascorrono solo 24 giorni e viene congedato con disonore. Grazie all'aiuto economico del padre di Erika aprono un piccolo negozio di scrapbooking dove lavorano fianco a fianco. Finalmente sono solo loro due, hanno vent'anni, sono innamorati e trascorrono giornate intere all'interno della loro realtà ovattata. Mesi che trascorrono lenti ed una connessione che cresce sempre di più, fino a sfociare però, dopo un anno e mezzo, in una situazione di stallo in cui noia e mancanza di aspirazioni cominciano a incrinare il loro rapporto. Economicamente non hanno problemi, il padre di Erika gli garantisce un mensile che assicura loro la massima tranquillità. Quello che manca sono nuovi stimoli, qualcosa che li spinga fuori dagli schemi di una vita già scritta. Erika racconta che anche dal punto di vista sessuale la loro vita era completamente cambiata, tanto che trascorsi 18 mesi dal loro matrimonio, BJ non prova più alcun interesse fisico per lei. La sua ossessione ora diventa quella di apparire affascinante ai suoi occhi, colui che però sembra annoiato e distante. Entrambi sentono di avere bisogno di qualcosa di più, di qualcosa che possa portare un brivido nelle loro vite e dare così una scossa anche alla relazione. Nel loro tanto tempo libero iniziano a spingere sempre più in là il limite, prima abusando di alcol e poi gradualmente anche di cocaina. Un periodo sfrenato in cui cominciano ad uscire di più la sera tra i bar e i club della zona. Ed è così che l'idea di quel brivido, di portare sempre oltre il limite, comincia a prendere forma. Erika ha una vera e propria ossessione per gli oggetti, in particolare un'insolita mania per i cimeli di Uthers. Per nutrire la sua mania, è al contempo la loro voglia di adrenalina, cominciano a derubare i negozi Uthers della zona, vendendo poi parte della merce su eBay. Il rapporto che sembrava essere giunto ad una conclusione riparte improvvisamente con un nuovo slancio, come nella fase iniziale del loro rapporto. Ed il fatto che i loro primi colpi riescano perfettamente li porta a spingersi sempre oltre. Il loro film preferito è Natural Born Killers, lo guardano in continuazione nei pomeriggi di poco lavoro. Tanto che Erika decide di fare un primo tatuaggio ispirandosi al film. Sono convinti di essere una versione moderna di Bonnie e Clyde, sempre pronti all'azione e che nessuno potrà mai fermarli. Nella loro nuova casa hanno adesso tre serpenti, Bonnie, Clyde e Hitler, nomi scelti in onore dei loro idoli. I rapporti con i genitori di Erika si fanno sempre meno frequenti. La ragazza timida e studiosa, con la paura degli aghi e anche del più piccolo degli insetti, adesso è totalmente cambiata. L'interrogatorio di Erika intanto continua senza sosta. È il primo maggio del 2002, quando decidono di andare in vacanza ad Ocean City. La prima sera si recano al Secrets, un famoso bar con vista sull'oceano frequentato prevalentemente da turisti. È lì che conoscono Joshua Ford e la sua ragazza Jenny. Loro sono lì per qualche giorno di mare, di relax. Le due coppe vanno d'accordo e trascorrono l'intera serata bere e chiacchierare. Sono le due, il locale sta per chiudere ed Erika e BJ suggeriscono alla coppia di seguirli nel loro attico, dove possono continuare a bere e a fare festa. Quello che Joshua e Jenny non sanno però è che accettando quell'invito diventeranno i protagonisti di un vero e proprio film dell'orrore. 20 minuti dopo, le due coppie sono nella vasca e dromassaggio sul terrazzo dell'appartamento. Continuano a bere e scherzare, tutto sembra procedere tranquillamente. Ad un certo punto però Erika si allontana per andare in bagno, pochi istanti, ed il suono delle sue urla riecheggia per la casa. Grida che non trova più la sua borsa, che qualcuno gliel'ha rubata. Erika comincia ad innervosirsi sempre di più. L'atmosfera rilassata e piena di risate di pochi momenti prima. Adesso è improvvisamente tesa e surreale. E a questo punto, che impreda la collera, Erika decide di chiamare la polizia. La chiamata si interrompe improvvisamente. Erika non ha ancora dato all'agente l'indirizzo dell'abitazione e la centrale non richiamerà mai il suo numero. È stato BJ ad attaccare il telefono. Un breve sguardo di intesa. E poi ritornano da Joshua e Jenny, che stanno finendo le loro birre. È a questo punto che iniziano ad accusare apertamente la coppia di avere rubato la borsa di Erika. Loro inizialmente pensano che si tratti di uno scherzo, ma quando vedono BJ estrarre una pistola e puntargiela addosso, comprendono che la situazione è immediatamente precipitata e che quella che hanno davanti non è una tranquilla e normale coppia in vacanza come loro. BJ li obbliga ad alzarsi in piedi e a spogliarsi nudi, poi gli facendo di andare verso il bagno. È a questo punto che la situazione gli sfugge di mano. Non ha calcolato che la chiave del bagno è dal lato interno della porta. Una volta dentro Joshua lo allontana con un calcio e poi la prontezza di chiudere a chiave. Erika però corre immediatamente all'esterno, sul terrazzo. Da lì c'è una finestra che permette di vedere all'interno del bagno. Comincia a controllare i movimenti della coppia. È in preda ad un'eccitazione ed un'euforia mai provate. Quando attraverso la finestra vede che Joshua si è appoggiato alla porta, urla a BJ di sparare. BJ esplode un colpo che attraversa il legno della porta e poi la testa di Joshua. Poi sfonda la porta e sarà Erika che intanto l'ha raggiunto ad accanirsi sul corpo già senza vita di Joshua. Jenny intanto è accovacciata in un angolo del bagno. Piange nascondendo la testa tra le mani. Non capisce il motivo di quella violenza improvvisa. Il suo corpo non verrà mai trovato. Il tutto per il brivido di provare emozioni sempre più forti, per quella sensazione di adrenalina che li fa sentire di nuovo uniti. Sarà la passione per le foto di Erika a documentare i momenti successivi di quella terribile giornata. Prima di tutto si recano da Ikea dove comprano dei prodotti per la pulizia, dei grossi sacchi per la spazzatura, oltre ad una nuova porta per il bagno. Due ore dopo un'altra foto li ritrae mentre giocano a mini golf. Poi un aperitivo in spiaggia. In questa foto sono sorridenti e felici. Sono trascorse solo nove ore dalla morte di Joshua e Jenny. C'è un particolare che rende ancora più distorta la percezione della loro realtà. Lo si nota se si guarda con più attenzione questa foto. La collana di Erika ha un nuovo ciondolo. È l'anello di Joshua ancora macchiato del suo sangue. Lo stesso giorno, prima di tornare a casa, Erika si fa fotografare mentre sta facendo un nuovo tatuaggio. Si tratta di un serpente. Il punto in cui ha deciso di farlo è lo stesso in cui poche ore prima ha colpito mortalmente Jenny. Torneranno a casa solo in tarda serata, dopo cena. Impiegheranno tre ore a dividere in piccole parti i corpi dei due ragazzi. Poi li chiuderanno in cinque sacchi della spazzatura e dopo averli caricati sulla jeep guideranno dal Maryland fino in Delaware. Butteranno i sacchi in questo cassonetto. Cinque ore dopo finiranno nell'immensa discarica di Delaware Farm. Erika, la mattina seguente, crea un album ricordo degli eventi della giornata con allegati quelli che definisce souvenir conquistati. Ma la sete di sangue non si placa. Vogliono riprovare le stesse emozioni. D'altronde è stato facile la sera prima. Quindi decidono di tornare nello stesso bar. È lì che stringono amicizia con Melissa, 22 anni, ed il suo fidanzato Justin, di 26 anni. Il copione è il medesimo della sera precedente. Bevono assieme fino alla chiusura quando propongono alla coppia di seguirli nel loro attico. Ma una volta nell'abitazione qualcosa non va secondo i piani. Quando Erika comincia a gridare che non trova più la sua borsa, Justin spinge via con violenza BJ e si allontana correndo via dall'abitazione assieme alla fidanzata. Dichiarerà in seguito di aver avuto una sensazione di negatività non appena entrato in casa, che non si sentiva a suo agio e che ha colto la prima occasione per andarsene rapidamente. Sarà questa sua prontezza a salvargli la vita. Sarà invece l'ossessione di Erika per i memoriabili a Uthers a porre fine alla loro carriera di aspiranti Bonnie e Clyde. Prima di allontanarsi da Ocean City e tornare a casa, decidono di fare un ultimo colpo nel negozio che incrociano alla fine della strada. Sarà l'allarme silenzioso del negozio ad allertare immediatamente la polizia. Nel corso del processo Erika rifiuterà ogni colpa, dichiarerà di essere stata una vittima degli eventi, di un ragazzo manipolativo e con una morbosa fascinazione per il male. BJ ed Erika si accuseranno a vicenda per l'intera durata del processo. Secondo la versione di BJ era lei a spingerlo e a distigarlo a superare i limiti, che erano gli unici momenti in cui erano veramente felici e incoscienti, come all'inizio, una vera e propria dipendenza a cui non sapevano più rinunciare. Nel corso del processo emergeranno altri particolari inquietanti. Prima di disfarsi del corpo di Joshua, la coppia è estratto dalla testa i proiettili, trovati poi nella borsa di Erika. Li aveva conservati perché voleva usarli per ricavarne una collana. Erika viene condannata all'ergastolo, Benjamin invece ha 38 anni. Secondo la giuria è stata lei la mente l'ideatrice del piano, ad organizzare fin nei minimi dettagli ogni evento di quella sera. A partire dalla decisione sulla scelta della coppia di turisti da avvicinare, fino alla decisione su come eliminarli, che BJ in realtà abbia solo obbedito a quanto lei ordinava di fare. Ben uscirà di prigione nel 2030 all'età di 53 anni. A presto con un'altra sconvolgente storia reale. Ciao! 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 Grazie a tutti.